Anna, si tratta del suo secondo romanzo, è così? Sì, è la prima volta che lo pubblico. Il primo non è stato pubblicato. Questo romanzo tratta di una storia d'amore intensa, dove il nucleare e l'ambiente coincidono sulla vita dei protagonisti. E quindi, naturalmente, quando lo leggeranno, capiranno perché questa storia è intensa e straordinaria. È dedicato a un personaggio in particolare? È dedicato al fisico nucleare fanese, onorevanto della nostra città di Fano, figlio di Valerio Volpini, ex direttore dell'Osservatore Romano, il quale è morto pochi anni fa, credo a 52 anni, e con molto onore gli ho dedicato questo libro. Venerdì pomeriggio ci sarà la presentazione ufficiale. Dove, a che ora sarà e quali saranno gli ospiti? Sì, è venerdì 24 settembre, alle ore 18, presso la Pinacoteca San Domenico a Fano, zona centrale Mercato Pesce. Saranno presenti due presidenti delle banche Fondazione e BCC di Fano, un professore dell'Università di Urbino, il professor Busci, il quale ha già fatto la recensione in seno al libro, e saranno forse presenti dei familiari sia di Giovanni Volpini, il fisico nucleare fanese, che di una ragazza sempre scienziata di Fano. Grazie. Grazie.